La Sala degli Affreschi dell'ente provincia era particolarmente gremita stamane in occasione del convegno di studio promosso dalla Fondazione Giovanni Angelini in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova e la provincia di Belluno per riflettere sul fenomeno che ha colpito la montagna bellunese a fine ottobre. Un'occasione di riflessione ma anche di condivisione di quelle che sono alcune scelte che ora dovranno essere prese a brevissimo termine soprattutto per quanto riguarda il ripristino ambientale dei nostri boschi. I cambiamenti climatici, come convivere al meglio con i fatti alluvionali, il ruolo del bosco e la pericolosità degli schianti sono solo alcune delle tante tematiche discusse ragionando anche sui possibili interventi da attuare come per esempio in riferimento ai territori forestali. Il primo intervento è anche il più ovvio, è quello della rimozione del materiale legnoso che è stato atterrato dal vento. Questo richiederà parecchio tempo ma dovrà essere fatto partendo fin da subito. Dopo questo ovviamente la grande quantità di legno non potrà essere messa sul mercato per non creare scompensi economici ma dovrà essere conservata e questo pone un altro problema perché dovremo trovare le superfici sulla quale realizzare queste cataste che andranno tra l'altro durante i mesi stivi conservate in umido quindi dovremo avere anche una disponibilità d'acqua per poterle tenere bagnate. Al convegno ha preso parte anche il coordinatore dell'unità di crisi regionale per l'emergenza della Regione Veneto, Giampaolo Bottacin, che si è soffermato in particolare sul binomio previsione-prevenzione. Quando noi abbiamo dato l'allertamento tanti ci prendevano per pazzi, dicevano ma stanno prevedendo un evento che ci sembra impossibile che avvenga. Invece è avvenuto perché abbiamo investito parecchi soldi come Regione su tutti gli aspetti che riguardano la previsione, quindi la modellazione, le previsioni meteo, le previsioni idrauliche, idrologiche eccetera e anche sulla prevenzione. Vorrei ricordare che negli ultimi anni in Veneto abbiamo investito qualcosa come 860 milioni di euro in opere di difesa del suolo di cui 108 in provincia di Belluno e queste sono opere che hanno dato esiti positivi perché altrimenti oggi staremo contando decine di morti e non lo dico io, lo hanno detto autorevoli anche docenti universitari, le opere di difesa del suolo realizzate in questa provincia hanno consentito di attutire molto il colpo.